Michele Diamenta, allenatore dello Spinita, arriva questa sconfitta in casa, la seconda consecutiva tra le Muramiche dove prima dei ripalli di Monsena aveva vinto soltanto il San Pietro. Ottimo inizio da parte vostra, doppio vantaggio, poi che cosa è successo? È successo un po' quello che temevamo durante la settimana, loro sono pericolosissimi sulle palline attive e abbiamo preso due gol su praticamente due calci d'angoli. E questo dispiace perché sicuramente non abbiamo demeritato ai punti di perdere la partita. È chiaro che vai 2-0 dopo 15 minuti e non ti puoi permettere di perdere o comunque di non portarti i punti a casa. C'è il rammarico perché, ripeto, se magari Ripa veniva qui, ci metteva sotto, ci faceva quattro gol, ok, però prendere dei gol così ti fa rabbia. Peccato poi anche per le due espulsioni, Vitone che era stato sicuramente tra i migliori in campo, poi Calabrese un elemento che vi mancherà, quindi peccato anche per questo, ma siamo sicuri che lo Spinete ripartirà per onorare al meglio questo finale di campionato. Le espulsioni fanno parte del gioco, Calabrese ha preso un doppio giallo, lo stavamo sostituendo e non l'abbiamo fatto in tempo. Vitone è lo stesso, un doppio giallo alla fine dove forse si poteva fare qualcosina meglio, ma non sono le espulsioni, il problema è che abbiamo bisogno di punti per cercare di fare i playoff. Noi il nostro obiettivo, lo dico all'inizio del campionato, non era quello, ma è stupido dire che arrivato a questo punto uno non ci vuole provare. Certo, quattro sconvitte consecutive per una squadra che deve fare i playoff sono tante e quindi su questo c'è da riflettere.